Per Luigi Propersi oggi inizia questa avventura in vista delle amministrative, innanzitutto partiamo dal programma, quali sono i primi obiettivi che si pone? Io cercherò di rapportare il programma a quella che oggi è la domanda generalizzata in città, che è quella di ritornare nelle proprie case. Questo a chiunque si chieda oggi, ti rispondono tutti, che l'esigenza primaria è ritornare a casa, ritornare nei negozi, ritornare nella città. E' chiaro che poi il discorso si amplia in quale città, quale futuro per questa città, quale sviluppo. L'esigenza primaria è questa, quindi la risposta che bisogna dare è una risposta a questa domanda. Facciamo anche un po' di chiarezza su cosa è accaduto sulle primarie, questa candidatura di cui si è parlato per settimane e poi alla fine non è arrivata? Mettiamola in maniera molto semplice e fuori dalle polemiche che hanno in qualche modo caratterizzata questa cosa. Intanto io non sono un uomo dei partiti e mi sono trovato in una situazione in cui, dopo aver detto più volte che credevo nelle primarie e che a mio avviso andavano fatte, anche in termini egoistici, in quanto ritengo che le primarie per me sarebbero stato un banco di prova, ma anche un modo per farmi conoscere meglio, mi sono però ritrovato in una situazione in cui il principale protagonista delle primarie, che era indubbiamente il PDL, non ha presentato più il proprio candidato. Io avevo sempre detto che le primarie sarebbero state anche un modo per far concorrere una pluralità di soggetti alla definizione del candidato sindaco. Non ho ritenuto che queste condizioni ci fossero più, così come al contempo si è manifestato l'interesse ad una maggiore convergenza di soggetti, il Fli, che non avrebbero partecipato alle primarie. La mia decisione è derivata semplicemente da questo. Intanto ieri sera il PDL ha ufficializzato il sostegno della sua candidatura? Questo mi fa ovviamente molto piacere, ritengo che sia uno degli elementi fondanti, ma io ho sempre posto la mia candidatura come una candidatura di convergenza. Ad Aquila la prima cosa che bisogna porre come centro della campagna elettorale per il 6 di maggio è un tentativo di portare a convergenza le diverse posizioni. Quindi anche il mio programma sarà orientato in questo senso. Lei è l'uomo di questa convergenza? Ritengo di sì, o perlomeno proverò ad esserlo.